Investire sull'odio, ma odiare chi? Non odiare i responsabili delle situazioni di povertà e di miseria dell'Africa, odiare quelli che stanno sotto, odiare i più deboli. Se sei uno schiavo devi odiare lo schiavo più giovane. Ma questa è una follia totale, perché il fascismo è razzista per definizione, perché si basa non sulla legittima paura dell'altro, che quella è legittima, o sui problemi che la presenza dell'altro può comportare, ma si basa sul rifiuto della differenza. Guarda, se si vuole capire la migrazione, basta fare una cosa molto semplice. Prendere una fotografia di un ragazzino su un barcone, ritagliare la faccia e incollarci quella del proprio figlio. Allora si capisce la migrazione. Sono convinto che alla fine quello che ci potrà saldare è solo il riconoscere la nostra umanità, il nostro terreno comunale. Io considero i migranti, persone con i miei diritti, esattamente uguali a me, con gli stessi diritti miei. Allora quello che si chiede per se stessi va diviso, condiviso con gli altri. Immigranti sono una grande risorsa. Bisogna capire tutte le volte che siamo esseri umani, esercitare quelle cose che caratteristiche della nostra umanità, che non sono la violenza, l'assassinio, ma che sono il cercare di fare quel che si può, quel poco che si può, per vivere meglio di tutto il sesso. Grazie a tutti.